Bene, ora come sapete questo qui è un concetto si dedicato al periodo procentesco del quale questo evento, questo bellissimo evento, ne rendo mangio, ma questo concetto è anche dedicato al 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, 150 anni sono passati dalla nascita dell'Italia e con questi ieri ci sono stati 150 anni per sviluppo della musica, della nostra nazione, diciamo che siamo arrivati quasi al contemporaneo, ai giorni nostri, rimaniamo sempre nel periodo dei primi del Novecento con le canzoni della musica parte europea, della musica napoletana, quella che abbiamo portato, poi anche all'estero abbiamo fatto la sua nazione, abbiamo gratificato insomma la nostra nazione con, anche con la musica parte europea. Ora eseguiremo questo midlitz che abbiamo voluto portare al nostro ascolto, mixando appunto un sole mio, insieme a soltanto innamorato, insieme alla quarantena napoletana, insieme a con la musica parte europea, insieme a tutti i brani che sicuramente riconoscerete perché sono temi ormai usuali e quotidiani che possiamo tranquillamente sentire in qualsiasi canale. Quindi il brano che vi eseguiremo adesso si intitola Canta l'acqua, buon ascolto. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. tra i suoi figli. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e... a tutti. e a tutti. a tutti. Grazie a tutti.